Siracusa, impianti igienici del cimitero sono fatiscenti come tutta la struttura. Ho raccolto le lamentelle di tanti cittadini che si regolano al cimitero di Siracusa, non trovano i servizi igienici, bagni e lavandini a disposizione del pubblico per visitare i propri defunti. Lo dice Luigi Cavarra, ex consigliere di circoscrizione a Credina. Attualmente sono tre i servizi igienici al cimitero a disposizione del cittadino, di cui uno è stato recentemente ripristinato e che si trova nell'area adiacente all'ingresso del cancello principale. Il suddetto servizio igienico sarebbe anche in uso ai titolari dei chioschi dei fiori. All'interno della struttura esistono altri due impianti che si trovano in condizioni pietose. Al proprio interno, lato destro, durante tutto il tragitto che porta ai loculi, non ve ne sono, nel lato sinistro dell'entrata c'è un solo bagno fatiscente e privo di acqua, continua Cavarra. Nella struttura cimiteriale adiacente il secondo cancello non vi attraccia alcuna. Per trovare un altro servizio igienico occorre attraversare il terzo cancello nei pressi delle palazzine. L'impianto si presenza in condizioni molto precarie e senza acqua. L'ex consigliere Cavarra propone di allocare in aree edone bagni chimici i quali non comporterebbero nemmeno eccessivi costi, ottimizzando un servizio essenziale con relativa segnaletica per la popolazione ormai quasi tutta anziana e quindi bisognosa fisiologicamente di un servizio necessario e anche per i turisti che volessero visitare parenti e amici defunti. Inoltre si chiede che vengano incrementati il numero di fontanelle e di ripristinare quelle esistenti poiché la maggior parte sarebbero senza acqua. Altre si occorre riprendere il servizio navetta per dare soccorso coloro i quali per motivi di deambulazione e senza auto sono costretti a rinunciare a arricarsi al cimitero, conclude Cavarra.